Travolte da una jeep mentre lo riparavano, è accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Casalza Ligure tre feriti. Emergenza acqua, ecco le mosse, illustrate nel Consiglio Comunale Straordinario di sabato sera a Casalza le azioni intraprese dalla Giunta Comunale. Depuratore, mercoledì la presentazione dei progetti, sei ipotesi in campo, il risponso previsto per il 17 settembre lo daranno i 67 sindaci del lato. Ruba e minaccia, arrestato sabato a Chiavri Vento Tenne che aveva portato via indumenti da un negozio di via Trieste. Linea 98, Santa vuole la proroga, il servizio sperimentale di ATP con un collegamento unico tra le località della costa e gli ospedali del Tiguglio si dovrebbe però concludere da alla fine di questa settimana. Dondero ferma il sesto elevante e dal portiere del Ligone blocca solo 1-1 l'esodio stagionale dei corsari parando un calcio di rigore al 92esimo. Male il Rappalo Bogliasco che perde a Bra benissimo la Lavagnese che vince a Berinzago. Buonasera dal TGT, iniziamo con un incidente che è avvenuto a Casalza Ligone nel primo pomeriggio. Tre persone lavoravano sotto ad una jeep e il mezzo si è messo a muovere e il bilancio di tre feriti. Ascoltiamo. Travolte tre persone nel primo pomeriggio di oggi in via De Gasperi nel comune di Casalza Ligone. Stavano riparando un fuoristrada quando il veicolo, per causa ancora da chiarire, si è messo in moto e ha travolto tre persone. Uno dei tre si trovava a bordo della vettura prima di scendere e finire schiacciato. Nessuno è in pericolo di vita. Il più grave è stato trasportato d'urgenza in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova, dove risulta sotto osservazione per un trauma toracico. Gli altri due sono stati trasferiti a Lavagna con piccole fratture. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e della Croce Verde di Sesti Levante. I carabinieri di Sesti li indagano per chiarire la dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme sono stati i dipendenti di una ditta con sede nelle vicinanze. E abbandoniamo momentaneamente la Val Petronio per giungere in Val Fontana Buona perché è stato celebrato questa mattina nella chiesa di Nostra Signora dei Miracoli a Cicagna il funerale di Matteo Gazzolio, il 25enne morto. Mercoledì sera nello schianto trovava la sua auto e un'auto, un Audi, guidata da un 67enne che girava in direzione di Vignale lungo la strada 225 della Val Fontana Buona all'altezza della chiesa di San Colombano. L'autopsia ha accertato che le cause della morte sono state le lesioni al cranio dopo lo scontro. La procura di Genova dovrebbe disporre una perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E rimaniamo in Val Fontana Buona perché una potente gru per rimuovere il gigantesco tir con tag austriaca rimasto incastrato due giorni fa su un tornante della provincia 82 di Sant'Alberto ostruendo tutta la carreggiata. Sul posto, informati dal comune di Lomaso, sono immediatamente arrivati i tecnici della viabilità e agenti della pulizia della città metropolitana. E la città metropolitana di Genova, con il coordinamento del consigliere delegato alla viabilità Gianni Vassallo, ha incaricato per queste complesse e difficili operazioni la ditta specializzata a Vernazza che oggi pomeriggio è intervenuto con una gru capace di spostare e sollevare l'auto articolato pesante con il suo carico di carta per lavorazioni industriali oltre 250 quintali. E come promesso, torniamo in Val Petronio. Sabato sera scorso si è svolta a Casazzarigone un consiglio comunale straordinario incentrato sull'emergenza acqua che dura ormai da una settimana. Il sindaco facente funzioni Giovanni Stagnaro ha confermato l'intenzione di utilizzare un filtro per rendere potabile l'acqua del pozzo di case nuove e l'allacciamento alla falda acquifera di via Sara 1 a sesto elevante. Ma ascoltiamo le parole del primo cittadino casazzese. Emergenza acqua a Casarza. Proprio lunedì scorso iniziava il disagio per 6.000 persone residenti nel paese della Val Petronio e per quelli di Maccalè sulle alture di sesto elevante. Ecco le mosse della giunta comunale casazzese. È da qualche giorno che i cittadini di Casarza devono sopperire a un disagio che è quello della non utilizzabilità ai fini potabili per gli usi alimentari dell'acqua. L'amministrazione non è stata ferma perché parte l'ESA come tutta la cittadinanza da questo evento. Quindi ci siamo mossi da subito e abbiamo chiesto alla società acqua potabile di intervenire immediatamente. Sono state trovate due soluzioni. La prima un filtro a carbonio che permetta di abbattere questi valori e quindi poter dare l'acqua ai casarzesi nel minor tempo possibile. Un altro più strutturale che prevede un bypass, un collegamento con il pozzo di via Sara 1 a sesto elevante. Noi adotteremo tutte e due le soluzioni. Una prima per risolvere il problema immediatamente nel più breve tempo possibile e la seconda per avere un intervento strutturale che anche in futuro ci consente di avere un'alternativa all'approvviggiamento idrico. Per quello immediato prevediamo dei tempi di circa una decina di giorni mentre per quello strutturale ci vorrà all'incirca un mese. E ancora il sindaco facente funzioni di Casarza Giovanni Stagnaro ha chiesto a lato misure compensative in relazione all'emergenza idrica attraverso una lettera nella quale ricorda come dallo scorso 31 agosto il suo comune viva una situazione di emergenza relativamente all'approvvigionamento di acqua potabile. Stagnaro chiede quali misure saranno adottate a compensazione del disagio della popolazione e delle attività economiche operanti sul territorio comunale costrette all'approvvigionamento di acqua potabile presso cisterne mobile e con l'acquisto presso negozi. I casalzesi avrebbero anche chiesto una riduzione sulle bollette visto che il disagio subito è già di una settimana. E adesso parliamo di depuratore, dopo domani la presentazione dei progetti però il vedetto definitivo arriverà solo il 17 settembre. Si terrà dopo domani, mercoledì 9 settembre, la presentazione ufficiale ai 67 sindaci componenti del lato, ambito territoriale ottimale, l'organismo dedicato al ciclo delle acque dei dati riguardanti le diverse ipotesi per la costruzione del depuratore comprensioriare del Tiguglio. In campo ci sono numerose ipotesi tra le quali i primi cittadini dovranno scegliere prima del voto definitivo del 17 settembre. I sindaci hanno già potuto esaminare i dati raccolti ed elaborati da IREN e poi passati al vaglio del soggetto terzo Industria Ambiente SRL nel mese di agosto. Sei le aree candidate ad ospitare la struttura. La prima prevede la creazione della struttura a Chiavari presso la Colmata. Tre le soluzioni se l'impianto fosse localizzato invece a Lavagna. Area colmata presso la Fosce dell'Entello oppure presso il porto nelle due soluzioni del 2014 e del 2015. E infine a Sessi Levante sono state individuate l'area di Pescina e l'area di Iramaia. E' una partita molto seria e importante, aveva dichiarato Enrico Pignone, consigliere delegato all'ambiente della città metropolitana durante la presentazione dei progetti. Perché nel territorio della città metropolitana ci sono comuni sotto infrazione europea e se non si provvede ad avviare la realizzazione di un depuratore dopo il 30 settembre scattano le sanzioni, un costo per la collettività che finirà nella tariffa, nella bolletta dell'acqua. Bisogna superare il pregiudizio che fa vedere i depuratori con ostilità. Al contrario, i depuratori migliorano la qualità dell'ambiente in cui insistono e grazie ai depuratori che i litorali e le spiagge ottengono le bandiere blu. Eh però andatolo a spiegare ai cittadini. E intanto i consiglieri di opposizione a Lavagna, Andrea Giorgio e Mario Maggi di 100% Lavagna e Alessandro Lavarello del Movimento 5 Stelle hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente per riportare in discussione il cosiddetto progetto DIGA per figli. I tre chiedono sia di annullare la delibera con cui era stato dato il consenso al progetto stesso e vogliono esprimere il personale parere contrario ad un'opera ritenuta pericolosa per l'incolumità pubblica. E adesso parliamo di cronaca. Sabato pomeriggio arrestato a Chiavari per furto un 28enne. Vediamo il perché. I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno tratto in arresto un 28enne con pregiudizi di polizia per rapina. Nel tardo pomeriggio di sabato scorso il giovane entrava all'interno di un esercizio commerciale in via Trieste e dopo aver prelevato alcuni capi di abbigliamento, un giubbotto, una camicia e un pantalone, si allontanava repentivamente dal negozio, proferendo pesanti minacce nei confronti della commessa. La pattuglia del nucleo radiomobile, giunta sul posto raccolta e le indicazioni di chi aveva assistito alla scena, individuava in un appartamento poco distante dall'esercizio commerciale al cui interno veniva trovato l'uomo che veniva così tratto in arresto. Continuano intanto i servizi finalizzati alla prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera nel Tiguglio, complessivamente 6 persone deferite tra i 20 e i 45 anni, sia italiane che straniere, 2 per guida senza patente e 4 poiché, sottoposte ad alcol test, risultavano avere il relativo tasso nettamente superiore a quello stabilito per legge. Ieri notte a chiave i carabinieri dell'aliquota radiomobile della locale compagnia carabinieri nel corso di un predisposto servizio hanno rispettivamente deferito in stato di libertà per guida senza patente perché mai conseguita e per guida in stato di ebrezza un 51enne con pregiudizio di polizia e un 28enne di origine calabrese. Le patenti sono state ritirate. La linea 98 di ATP, quella sperimentale che collega le località della costa con gli ospedali, entusiasma poco i comuni, eccezione fatta per Santa Margherita Ligure. Il tempo di bilanci per la nuova linea ATP 98, denominata del mare della salute, è attivata sperimentalmente quest'estate su iniziativa del comune di Santa Margherita Ligure per volontà congiunta dei comuni costieri del Tiguglio. Secondo i dati raccolti dall'azienda di trasporto e secondo le lettere giunte ad ATP da enti e da associazioni che plaudono l'attivazione della linea, l'esperimento sembra aver portato i frutti sperati. Il servizio è stato utile, utilizzato e funzionante. Nel dettaglio i rilievi dei carichi effettuati dai verificatori ATP dei titoli di viaggio più alcune note degli stessi agenti riportate, campioni di 20 rilievi in punti a caso all'interno di tutta la tratta tra andata e ritorno, hanno evidenziato una media passeggeri di 18,6. Inoltre sia l'associazione italiana di Slessia, sia il comitato malati del Tiguglio hanno espresso apprezzamento per il servizio, tanto da richiedere l'attivazione tutto l'anno. I dati forniti da ATP sembrano confermare l'importanza delle richieste avanzate dai cittadini, dichiarano il sindaco di Santa Margherita Ligore Paolo Donadoni e il consigliano incaricato a mobilità e viabilità Alberto Barsi, ossia la rilevanza di un collegamento diretto senza cambi che attraversi il Tiguglio costiero e che, nel contempo, faccia da collegamento con i tre ospedali del territorio. Alla luce di ciò valuteremo insieme a tutti gli altri comuni coinvolti e ad ATP quali provvedimenti possono essere presi e in che termini per soddisfare sempre di più le esigenze dei cittadini. Noi siamo a disposizione, conclude Donadoni. E ci spostiamo a San Michele di Pagana perché è incidente ieri pomeriggio intorno alle 18.00. Un incidente tra uno scuto e un pedone sul posto volontario della Croce Bianca di Rapallo e della Croce Verde di Santa Margherita Ligure. Le due persone sono state trasferite al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in codice verde. E dalla frazione del Comune di Rapallo ci spostiamo nuovamente a Casalza Ligure perché sabato si è svolto il secondo festival bandistico di Casalza. Vediamo. Si è svolto sabato scorso il secondo festival bandistico di Casalza Ligure. Per le vie del paese si sono esibiti il corpo bandistico di Casalza e della Val Petronio, il corpo bandistico Città di Rapallo, la banda musicale Giovanni XXIII di Ceranesi oltre alle majorette orchidee di Langhirano in provincia di Parma. In occasione proprio del primo anno di attività della nostra banda cittadina di Casalza Ligure e della Val Petronio abbiamo rinnovato l'appuntamento di questo raduno bandistico, quindi siamo al secondo raduno bandistico di Casalza Ligure e quest'anno le bande partecipanti sono state la banda Giovanni XXIII di Ceranesi e la banda musicale Città di Rapallo. Avevamo anche la presenza del gruppo delle majorette le orchidee di Langhirano da Parma e abbiamo pensato a questo happening musicale, questa festa, proprio per celebrare il nostro anno di attività. Settembre, mesi di matrimoni e boom di matrimoni civili a Sesto Elevante. Sabato se ne sono celebrati ben cinque. Una coppia di sposi ha acquistato i parcheggi di tutta la piazza davanti alla stazione per i numerosi ospiti, quindi grande lavoro per l'assessore comunale Paola Bongioni delegata dal sindaco Valentina Ghio che ha unito tre coppie e poi ha lasciato la quarta celebrazione all'ex segretario della CGL, nonché ex sindaco di Bologna e oggi europarlamentare Sergio Cofferati e il quinto invece al capogruppo dei Cinque Stelle in consiglio comunale a Sesto di Martino Tassano. E da questa notizia curiosa passiamo allo sport. Ieri è iniziato il campionato di Serie D colpaccio della Lavagnese che ha vinto in trasferta contro lo Sporting Belinzago 1-0 grazie alla rete di Curarina al sessantatresimo, mentre il rapporto Bogliasco ha perso 2-1 in trasferta contro il Bra. La rete bianconera è stata firmata da Toledo, mentre finisce 1-1 tra Sesto Elevante e Ligona. Vediamo le immagini della partita di ieri al Sivori. Cesare Dondero ferma il Sesto Elevante. Il portierone del Ligona, originario dalla Val Fontana Buona ed ex numero 1 della Beretti della Vieto Sentella e della Lavagnese, è stato il grande protagonista della partita. Già l'ottavo è chiamato in causa per bloccare una conclusione del rosso-blu Scampini. Al 22esimo l'episodio che spezza l'iniziale equilibrio. Spalla contro spalla in aria col Sara tra il Trezzino Usai e l'attaccante albanese Balla. Il numero 10 della Ligona cade a terra per l'arbitro del rigore, un generoso rigore. Da dischetto Favero non sbaglia. Al 25esimo l'Unione ha l'occasione per pareggiare immediatamente, ma Cargioli spara incredibilmente alto. Un minuto dopo Dondero rispinge un bel tiro di Zizzari. Alla mezz'ora si fa vedere Ligona con una staffilata di balla, Stancampiano rispinge, sul pallone si Fionda Costa che alza la mira, ma il guardalini aveva alzato la bandierina per fuorigioco. Al 34esimo stesse levante vicino al pareggio, calcio di punizione di Scampini e palo che evita il possibile 1-1. Al 35esimo altra punizione questa volta di Marinai e proteste dei padroni di casa per un ipotetico tocco di mano di un giocatore ospite in barriera. Il primo tempo si conclude con il salvataggio in corner di Dondero sulla punizione di Scampini. Nella ripresa al 60esimo contato in aria del Ligona tra Gallotti e Zizzari, ma l'arbitro sorvola. Al 64esimo lancio di Rasini per la conclusione al volo di Caglioli e palla fuori dallo specchio della porta. Al 67esimo il pareggio dei Sestrini, lancio di Usai e Zizzari, probabilmente in fuorigioco, scaraventa la palla in rete 1-1. Dondero si salva in corner prima al 73esimo su tiro di Scampini e all'86esimo su Safina. All'87esimo ancora sfortunato il sese levante, corner di Immobilio, colpo di testa di Zizzari e palla sulla traversa. E al 92esimo rigore, forse generoso per i Sestri, per un contatto in aria tra Zunino e Zizzari. Dal dischetto il centravanti rosso-blu sembra attitubante, però riesce ad angolarla, ma Dondero neutralizza con dedica speciale. Peccato, oggi abbiamo buttato via due punti per la nostra classifica. Guardo comunque la crescita della squadra sin dal primo giorno che abbiamo lavorato ad oggi. e non li posso recriminare nulla ai ragazzi. Hanno fatto sicuramente il massimo, dobbiamo sempre migliorare assolutamente. Però una squadra che sempre ha voluto giocare, penso che l'avete vista, una squadra che ha provato a fare le cose che facciamo in settimana, una squadra sfortunata con un portiere che ha fatto due parade straordinarie, con dei tiri respinti, con travesse. Quindi non posso dire altro che bravi ragazzi, bisogna sempre migliorare, cercare di chiudere le prime, ma va bene così. Noi pensavamo, a detta di tutti, ci davano 10-0 come le scommesse, quindi credo che abbiamo fatto un risultato importante, difendendoci ma facendo una buonissima partita. Ma ieri è stata anche la giornata della Coppa Italia di eccellenza e promozione. In eccellenza, Bagliardo Rapallo 3-3, Rapallo è già qualificato alle semifinali della competizione. 2-2 tra Samagritese e Busalla e 2-0 del Real Valdivara contro il Riva Samba. In promozione, Golfo Paradiso-Ceparana 3-3, passa al turno successivo il Golfo Paradiso. 2-1 da Casalza contro il Moconesi, però ricordiamo che il Moconesi ha una partita da recuperare, così come il Ceparana. E in Coppa Liguria, per la prima categoria, il Bogliasco ha sconfitto la Rapid Nozargo per 3-0. Sempre ieri si è giocata in amichevole, il Vieto Centella-Sambdoria è finita 2-2. L'esodio dei Bianco Celesti è stato posticipato, come sapete la Serie B è già iniziata ieri. I Bianco Celesti però non hanno giocato la prima giornata, che giocheranno invece con l'Ascoli, anch'essa riamessa in Serie B. L'esodio ufficiale dei Bianco Celesti avverrà sabato contro il Cesena al Comunale di Chiavari. E concludiamo con un'altra notizia di calcio, perché è nata una nuova società in terza categoria, l'Atletico San Salvatore, il cui presidente sarà Andrea Peirano. Il club, i cui colori sono il bianco e il verde, sarà allenato da Emilio Garbarino, ex tecnico di Levese, Realfieschi e Santa Maria San Salvatore. Il direttore sportivo sarà Roberto Pinasco, mentre le partite casalinghe di questa nuova squadra verranno giocate a campo sportivo San Martino di San Salvatore di Cogorno. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. Adesso io vi lascio alle previsioni del tempo per domani. E poi la programmazione di Entana TV prevede Arti e Mestiere, un vecchio programma di circa 20 anni fa, del 96-97, condotto dal collega Franco Po. Quindi adesso per ogni lunedì intorno alle 20 ci sarà questa riproposizione di questi programmi storici di Entana TV, visto che a febbraio la nostra emittente compie 30 anni. Bene, finisce il telegiornale, Meteo, poi appunto Arti e Mestiere e poi la programmazione abituale di Entana TV. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Previsioni per domani, martedì 8 settembre. Continua l'espansione dell'alta pressione, ma il passaggio di aerea fredda in quota favorisce frequenti transiti nuvolosi, soprattutto dal pomeriggio. Venti al mattino moderati, in prevalenza settentrionali. Dal pomeriggio deboli di direzione variabile tendenti a ruotare da sud-est. Mare mosso, incalo fino a poco mosso, temperature previste sulla costa tra i 19 e i 27 gradi, nell'entroterra tra i 14 e i 27 gradi.